Anche in questo caso odio aver ragione. Odio aver ragione perché a rimetterci sono i soliti bimbi, sempre e solo i bimbi. Quando in questi tre anni, in questi due anni e mezzo o tre che hanno preceduto questo periodo, dicevamo basta mascherine a scuola, manifestavamo come Italexi, manifestavamo, io andai anche addirittura davanti a Speranza e Sileri and Company al Ministero della Salute a Roma per andare a dire togliete le mascherine, trovate un'alternativa ma basta mascherine ai bimbi, prendevo del pazzo complottista. Oggi viene fuori che a Napoli e non solo Napoli ovviamente è record di infezioni per i bimbi dovute a cosa? Dovute alle mascherine. Carlo Clemente sei collegato, vedo i primi collegati, in verità non li vedo ancora, è arrivata la notifica in questo momento. Vi chiederei di condividere soprattutto tutti quelli che hanno sostenuto che, o meglio, mi hanno attaccato, ci hanno attaccato quando dicevamo la mascherina è sbagliata, tenere la mascherina tutto il tempo, i bambini a scuola, all'asilo, è da pazzi scatenati, è da folli, genitori tenetela meno possibile, non si abituano, non fanno gli anticorpi, respirano male, quel che vi pare. Ecco la verità che viene fuori per l'ennesima volta. Quindi vi chiederei di condividere se non volete risultare complici di quei disgraziati, li chiamo disgraziati, che hanno ridotto, messo da panico i nostri figli, hanno distrutto il sistema immunitario dei nostri figli. Una cosa vergognosa. Vi farò sentire addirittura cosa dice il primario, perché dice che proprio ed è legato alla mascherina. Intanto abbiamo i giornali che titolano così, guardate, il mattino di Napoli, Santo Bona, Napoli ha record di infezioni per i bimbi, colpa delle mascherine anti-Covid. Guardate, dopo un anomalo piccolo dell'inverno, adesso ve lo leggo, ve lo leggo, sentite che dice, dopo un anomalo piccolo dell'inverno scorso, continua anche quest'autunno, sia pure scontolo minore, forse solo grazie alle temperature più miti, l'epidemia di mastoiditi e infezioni da streptococco in età pediatrica. Ad essere colpiti soprattutto i bambini dai 3 ai 7 anni, ma anche quelli più grandicelli arrivano a decino ogni mese a pronto soccorso di Santo Bono. La diagnosi è l'infezione dell'osso del cranio diacente alla parte posteriore dell'orecchio. Quindi dunque alle strutture celebrali, quelle tenute in grande attenzione dai clinici, con la necessità talvolta di intervenire anche chirurgicamente per posizionare drenaggi e per far defluire le secrezioni purulente che si formano all'interno del cavo dell'orecchio. Cioè, amici, è tutto dovuto, dicono, alle mascherine, perché hanno tenuto talmente tanto le mascherine che hanno perso la capacità di produrre anticorpi naturali. Abbiamo demolito il loro sistema immunitario. Sono pochi collegati perché l'algoritmo, ovviamente, ieri sera 2000 collegati, 190. Quando tratti un tema reale, quando fai capire che sono dei pagliacci e hanno fatto delle pagliacciate, tu dici la verità, ovviamente ti limitano, perché non possono dire robi giusti per l'ennesima volta ragione, perché devono sennò dare dei C dall'altra parte. Vi faccio sentire cosa dicono i medici. Sentite, quei medici che volevano vaccinare tutti, quelli che ve li ricordate, no? Vi faccio sentire cosa dicono adesso i medici. Un attimo che cerco un articolo, un video, cerco un video, guardate. L'ho visto prima di la RAI regionale, se lo trovo ve lo faccio sentire. Aspettate. Perché veramente è un record di infezioni, record di infezioni per i bimbi e questa cosa fa arrabbiare. Io non so voi, ma mi fa proprio arrabbiare. È una cosa indegna. Ok, ho trovato il video. Aspettate. Attiva l'audio. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Ok, dovreste vedere anche voi il video che lo metto alle mie spalle così non ho problemi di diritti. Arrivo. Sentite cosa dicono. Ascoltate. Parliamo delle... questo penso che sia il primario dell'ospedale. Allora, sentite cosa dice. Sentite. Siamo al pronto soccorso dell'ospedale Santo Bono. Un forte incremento in questo periodo di infezioni da streptococco. Si chiamano mastoiditi, un osso del cranio adiacente al lobo del posteriore dell'orecchio. Ecco, come mai? Per due anni, soprattutto i bambini non hanno allenato il loro sistema immunitario alle infezioni e questo è dannoso. Ragazzi, molto semplice. Non è che c'è da girare tanto. I bambini non hanno allenato il loro sistema immunitario alle infezioni. Molto, molto semplice da capire. Molto semplice da capire. Dice anche che anche gli antibiotici hanno contribuito. Dice anche questo. È importante dirlo per la precisione. Perché a differenza dei fact c'è che raccontano quello che gli pare. Noi diciamo la verità. Quindi, il problema è che mascherine non hanno allenato. Colpa delle mascherine. Che gente come Speranza, complimenti, fenomeni, che gente come Speranza ha obbligato a portare anche i bambini, anche i bambini di 6-7 anni. E adesso in tanti, poi vedendo quelli di 6-7 anni, le mamme le mettevano anche molto intelligentemente. Perché c'è chi diceva, se si muore, ci si vaccina, si muore, le mascherine. Hanno fatto fare i vaccini ai bimbi, hanno messo le mascherine anche ai bimbi piccolini, hanno fatto delle porcate in mani. Bene, tutta la verità viene fuori, amici. Tutta la verità viene fuori. Ci sono altre notizie molto interessanti sul paragone.it. Adesso ve ne parlo. Ci sono notizie veramente, veramente clamorose. Perché è giusto parlarne. A questo punto vi parlo anche del resto. Andiamo ad aprire il paragone.it. Alle mie spalle il sogno americano finisce a Zombieland. Le immagini della città della droga. È una cosa, amici. È una cosa. Questa è la situazione reale, amici. Ci siamo. Vi faccio vedere la situazione reale negli Stati Uniti. Quello che non vi fanno, quello che non vogliono farvi vedere. Guardate. Guardate. Quello che non vogliono farvi vedere. Guardate la situazione negli state come sono messi. Guardate. Vedete bene così. Guardate come siamo messi negli Stati Uniti. No, non mi si apre. Perdonatemi, ho fatto un casino. Ok? Eccosi qua. Guardate. Guardate. Zombie per strada. Per la droga. Zombie. Questi sono gli Stati Uniti. Questa è una grande America. Quello che ci raccontano. Guardate. Avete capito perché ci tengono particolarmente magari a fare qualche guerriglietta in più? Perché la situazione americana è questa. Zombie Land, amici. Zombie Land. Questo è San Francisco, California. Amici, guardate la situazione di San Francisco in California. Guardate. È tutto vero. Guardate che situazione. Gente sdraiata per terra. Tutti drogati. Guardate. 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 Situazione reale. California. San Francisco. Guardate. Guardate. Gli zombie. degli zombie. Maglie strappate. Mamma mia. Guardate. Guardate. Situazione San Francisco, California. Amici. Direiamo via il titolo principale che abbiamo già parlato. Situazione San Francisco, California. Devastata. Devastata. Amici. Dagli zombie. Gente drogata. Messa da panico. E questa è la notizia da Paragone.it. Altre notizie da Paragone.it. Amici. Ne abbiamo tante oggi. Ne abbiamo veramente tante. E avete presente quel personaggio che non hanno operato perché si rifiuta di fare il tampone ma per l'ospedale è finita male. Bene. Non l'hanno operato perché c'è stata un'isteria di massa devastante. Sapevamo che con la fine dell'emergenza da Covid anche il clima dell'isteria di massa si sarebbe placato. Ma evidentemente la lezione non è stata capita da molti. E così può accadere che una donna non venga operata perché rifiutateci di fare il tampone oro faringeo. Qualcuno potrebbe dire che poteva farci un tampone. Cos'è un tampone? Altri potrebbero dire perché devo fare un tampone che è finita questa pagliacciata. Va bene. Detto questo l'intervento nel reparto di Otterino all'ospedale di Pescara è saltato e la paziente non ha potuto fare altro che sporgere querela. E' appena il caso di ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ufficialmente ha dichiarato il termine della presunta emergenza già al 5 maggio. Quindi passato 5 maggio. A rendere pubblico l'accaduto che risale il 17 ottobre e dunque l'illecito perpetrato nelle confronti di questa paziente il comitato difesa dei minori. Sicché dietro a sollecitazioni del raggruppamento di associazioni territoriali si era mossa la regione Abruzzo già l'indomani dei fatti chiedendo una relazione sull'accaduto alla SL pescarese. In particolare gli specialisti e i consulenti dell'associazione che la compongono, il professor Gianfranco Vecchio e l'avvocato Giulio Marini hanno avanzato la richiesta per aprire un'istruttoria interna alla regione chiedendo una relazione urgente. In sostanza comunque è andato avanti tutto, querela è andata avanti, quello che sapete, e hanno niente tampone, niente operazione, la cosa è stata provata. Quindi con gli avvocati altresì è stata valutata una violenza privata e quindi il presidente del comitato difesa minori promuotrendo massima fiducia nelle istituzioni ha invocato una violenza privata. Amici è andata avanti e le direttive della SL sono accadute, sono state messe ad agosto 2023 emanate dal direttore dell'azienda Antonio Caponetti che ancora ribadiva la necessità di mettere, di fare il tampone a tutti, senza un valido motivo, senza un valido immattivo. La giustizia si sta muovendo, stanno andando avanti e adesso per l'ospedale è finita male ed era ora. Poi, attenzione altre notizioni pesanti, avete visto quella dei robot? Questa qua ne abbiamo parlato solo noi, robot dotati di cervello. Entro il 2025, l'annuncio shock tra sorprese e polemiche, cosa ci aspetta? Hanno fatto vedere questi robot veramente che non hanno un aspetto umano, però l'obiettivo dichiarato di questa azienda leader in Cina è di creare dei robot con cervello e cervelletto capaci di interagire da soli. Veramente è una cosa tragicomica, la gente è molto molto preoccupata. In questi avrete visto in rete tantissimi video di robot ricostruiti, tipo questo, a sembianze umane, sono incredibili. Amici, sono incredibili e la cosa è molto preoccupante, perché si potrebbe arrivare veramente al 2025 ad avere robot che ragionano in modo autonomo e questo sicuramente non sarebbe una cosa molto molto bella. Mi hanno condiviso una notizia che non ho ancora la grafica da farvi vedere, però i portuali, questo è importante, si stanno trovando per bloccare le armi in partenza per non l'Ucraina, ma per Israele. I portuali di Trieste, li ricorderete i portuali che vennero innaffiati con gli idranti durante il Covid, che avevano coraggio di difendere la nostra libertà. Bene, hanno deciso di bloccare le armi in partenza per Israele. Vi do solo questa notizia. Evito di commentarla, evito di mettermi da una parte o dall'altra. Diciamo che io sono stanco di vedere la nostra Italia, che prima in Ucraina, poi in Israele. La cosa comica qual è? Abbiamo fornito, pensate, le armi in Ucraina. E dalle indiscrezioni sembra che le armi ucraine stiano finendo al palestinesi. Ad Hamas, in verità, non i palestinesi, perdonate l'errore. Ad Hamas. E dall'altra, quindi adesso il governo invia le armi, cioè l'Europa invia armi ad Israele. Quindi il paradosso qual è? Le armi italiane, le armi europee, sono andate sia ad Hamas che stanno andando ad Israele. Cioè, le armi europee stanno andando a entrambe le parti. Allora mi fa pensare questa cosa. Ma non è che forse i nostri politici hanno un interesse specifico in queste guerre. Il dubbio è lecito. Perché dal momento che tu mandi armi, da una parte e dall'altra, tu le hai mandate in Ucraina, ma l'Ucraina appoggia Hamas, la Palestina e Gaza. Tu le mandi ad Israele. Alla fine noi occidentali, l'occidente sta fornendo entrambe le parti. Amici, nessuno ci ha pensato. È un piccolo appunto. Ogni dubbio è lecito. La cosa è certa. I portuali per l'ennesima volta vanno contro un sistema e vogliono bloccare la partenza delle armi per Israele. Io non sono schierato con nessuna delle parti. Io sono contro la violenza, sono contro le armi e sono contro il terrorismo. Ognuno vale a dire cose come vuole. In Ucraina sono contro l'intervento di Putin. Non è giusto. Ma sono anche contro quello che ha fatto l'Ucraina nel Donbass. È inutile prenderci per il culo. Sono contro l'Europa che fornisce le armi. Sono contro gli Stati Uniti che quando c'è una guerra ci sono sempre in mezzo. Insomma, sono per la pace. Basterebbe dire siamo per la pace. Sono curioso di vedere quello che faranno questa volta. Attenzione, perché l'altra volta si parlava di le multinazionali, dei vaccini, le Green Pass e così, sono stati innaffiati da degli migranti. Ma i portuali questa volta che si vanno a scontrare contro chi vuole fornire armi ad Israele. Finiranno peggio dell'altra volta? Invece che gli idranti potrebbero usare i lanciafiamme? Ogni dubbio è lecito. A questo punto in bocca al lupo ai portuali. Ciao a tutti. Buona serata.